Tanti giovanissimi coinvolti in questa operazione che dalla procura è stata definita un gradino sotto la criminalità organizzata, cosa significa? Noi in questo momento l'attività investigativa, corroborata ovviamente da attività tecniche ben precise e informative da parte dei militari dell'arma, ha permesso di individuare un gruppo che sicuramente agiva per uno scopo comune, abbiamo nove soggetti dediti ad effettuare rapine allo scopo di realizzare magari un racket della prostituzione, un gruppo che si muoveva sempre nello stesso modo, sempre qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine, all'atto dell'ingresso nell'abitazione della prostituta scelta da annunci su internet o sui giornali. Ovviamente non si può parlare adesso di organizzazione mafiosa, ma sicuramente di un gruppo ben organizzato. Indagini particolarmente delicate anche perché tra le persone offese sono soggetti che hanno naturalmente una certa diffidenza verso le forze dell'ordine. Sì, questo devo dire che dal punto di vista investigativo è stata importantissima la denuncia dei fatti, che non sempre sicuramente è avvenuta perché in molti casi siamo stati noi a riscontrare il delitto consumato e tentato. Tuttavia devo dire che è stato veramente fondamentale l'apporto e la fiducia, in questo caso nei confronti della stazione carabinieri o del nucleo operativo, da parte delle persone offese. Un modus operandi insolito, quantomeno nei circondari? Allora, loro agivano, ripeto, tranne una rapina avvenuta a Catanzaro Lido, hanno agito nei comuni di Gasperina, San Soste, nel Soverato, Montauro e Montepovone. E in questi episodi, ricordiamo, sono cinque rapine consumate e due tentate. Loro effettivamente hanno adottato un metodo ad hoc, tutto scelto e creato da loro, si qualificavano quali forze dell'ordine, penetravano all'interno dell'abitazione, dopo aver ricevuto l'indirizzo da parte della stessa prostituta, contattata telefonicamente dagli stessi, reperendo il numero dagli annunci di giornale o da internet, una volta all'interno, con la minaccia dell'arma da fuoco, chiedevano innanzitutto il pagamento di una somma settimanale, che va dai 200 ai 500 euro, per poter esercitare in zona, o altrimenti l'allontanamento della stessa. E in un caso, l'ultimo, avvenuto nel mese di novembre 2013, c'è stata anche una violenza sessuale alla donna che negava appunto il pagamento.